Liberi, Signore, accesi dalle tue parole. Ci soccorro, Padre, l'immenso amore del tuo unico figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della madre. Ci liberi da ogni colpa e ti renda gradito questo nostro sacrificio, la mediazione di Cristo, Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.